Ciao ragazzi, piccola premessa prima di cominciare con il video, rispetto al solito sarà un video un pochino aggressivo Diciamo che questo è un argomento che sia a me che a fare sta molto a cuore e di conseguenza siamo andati un pochino bruschi rispetto al solito su quello che è il nostro pensiero Infatti siamo molto curiosi di sapere cosa ne pensate, però troviamo veramente assurdo che al momento si sta avendo sempre di più una visione unica Sul fatto che è giusto vivere nel modo in cui al momento stiamo vivendo ed è una cosa che troviamo personalmente veramente assurda Quindi i toni saranno leggermente più aggressivi di solito, niente di che adesso non allarmatevi però un pochino di più Però diciamo che troviamo veramente assurdo che reputiamo normale per dei mondiali di calcio che muoiono più di 15.000 persone Ecco, se questa è la normalità che dobbiamo vivere non ne vogliamo sapere nulla, ecco mettiamola in questo modo Quindi buona visione con i video, fateci sapere nei commenti cosa ne pensate perché è un argomento a cui teniamo veramente tanto Benvenuti in questo nuovo video, quest'oggi chiacchieriamo un pochino e nello specifico chiacchieriamo del feeling Che ha sempre di più sul fatto che non c'è più futuro per i giovani, non c'è più speranza per i giovani E c'è una sorta di, diciamo, depressione, non in senso di malattia ma proprio di senso di tristezza, di negatività Che sta costantemente aumentando e che secondo me sta bloccando anche molte persone dal provare a fare qualsiasi cosa Proprio perché la situazione è molto negativa Perché c'è un senso proprio di scoraggiamento Esatto, scoraggiamento, mi piace Bella parola, complimenti Quindi chiacchieriamo un po' di questo macro argomento oggi, vi diciamo un pochino cosa ne pensiamo E niente, c'è una bella chiacchierata, quindi poi nei commenti diteci cosa ne pensate Allora, da cosa partiamo? Io partirei un pochino da quello che stiamo vedendo Nel senso che da una parte, secondo me, la situazione attuale è quella del cambiamento climatico Nel senso che non si capisce se riusciremo a vivere tranquilli ancora nel pianeta Terra per molto tempo Secondo me no Diciamo che i segnali sono parecchio negativi E quindi viene un po' da pensare cosa sarà il mondo tra vent'anni tondi A livello proprio di climatria Noi quando saremo molto adulti o anche vecchi avremo grossi problemi nel vivere nel pianeta E però è difficile definirli Non sarà più così Certo, è difficile definirli Però secondo me vedremo parecchie conseguenze di quello che poi non stiamo facendo oggi Perché se non interveniamo alla fine poi sarà sempre peggio Quindi questo secondo me è un pezzo del puzzle E quindi cosa succederà al mondo e quindi la negatività Poi abbiamo un pezzo del puzzle che ovviamente è derivante dalle guerre e da tutto quello che ne sta conseguendo Sia pandemia che guerra e possiamo mettere dietente tutto in un unico calderone Che anche lì insomma non viene a pensare a un futuro molto Roseo Sicuramente al momento viene a pensare Se devo scommettere la situazione non è un granché E infine la terza cosa secondo me è proprio Diciamo un po' la situazione mondiale a livello Non dico politico ma più sociale Sociale Nel senso che abbiamo una società che continua a cercare di rimandare il momento in cui il giovane entra in azione E quindi abbiamo una società che arriva ad essere sempre più adulta in ambito di età Grazie alla tecnologia Alla medicina Ma questa cosa allo stesso tempo porta i giovani a non poter mai subentrare nelle aziende Cioè mai no A ritardare sempre più quando subentri in azienda E avere quindi delle aziende, un mercato, un diciamo un'economia Che continua sempre più a farlo occhiolino alle persone di una certa età Di conseguenza si è un po' tagliati fuori È un po' quella la sensazione Perché beh pensa magari mediamente inizi a lavorare all'interno di un'azienda a 30, 35 anni A volte anche magari a 38, 40 Inizialmente anche a 26 anni Eh però è più difficile Cioè quella fascia magari dai 20 ai 30 viene lasciata un pochettino più indietro secondo me Non ci sono così tante opportunità per loro Anche perché sei in quella fase in cui spesso ti viene detto Eh no ma sei troppo giovane per questo tipo di lavoro Poi a 30 anni invece ti dicono che sei troppo vecchio Cioè un po' viviamo Perché non hai fatto esperienza Eh perché non hai fatto esperienza Perché poi a 30 anni ti vogliono con 10 anni di esperienza E spiegami come la posso fare se poi a 20 anni invece non mi assumi Capito? Allo stesso tempo sputiamo sulle scuole e continuiamo a farle peggiorare Eh sì Idem per l'università E quindi la politica punta tutto sul 30, 35 più Proprio senza ombra di dubbio 50 più Ma magari calcolassando nei 30 anni 30, 35 più secondo me E di conseguenza insomma Diciamo che questi sono tutti dei buoni motivi per cui un giovane potrebbe dire Sai che c'è? Beh Me ne frego Diciamo che appunto non è da abbiesimare Neanche se poi No Ti senti perso Questa è oggettivamente la situazione attuale Poi potremmo dire che magari in Italia è di più E in un altro paese un po' di meno Vabbè Oggi diciamo che parliamo dell'Italia anche perché è il paese che conosciamo meglio Esatto Tendenzialmente che cos'è Che a ragionare così Probabilmente ulteriormente peggioriamo la situazione Perché? Perché io dico sempre Se un gatto Ok Decide di dormire tutto il giorno E vivere dormendo tutto il giorno E lì Dorme Fai bisogni Magna Beve un po' di acqua E tendenzialmente abbiamo finito Un essere umano Ha un sacco di conseguenze Cioè Noi diamo per scontato la nostra esistenza Diamo per scontato che possiamo vivere per la felicità Vivere per il carpe diem Vivere per tutte quelle scemenze che volete Ma la conseguenza della nostra vita quotidiana Di noi persone in Italia È che inquiniamo E quindi continuiamo a far peggiorare il mondo Di conseguenza facciamo sterminare gli animali Di conseguenza continuiamo a vivere alle spalle dei paesi più poveri È un'esistenza che diamo per scontato E ci togliamo una responsabilità enorme E a me fa un sacco triggerare sta cosa Sinceramente perché è far finta di non vedere Quando in realtà La nostra semplice vita Di cui ci lamentiamo anche tutti i giorni Perché non è come vorremmo In realtà sta alle spalle di tutto Della natura Degli animali E di tutti i paesi poveri Che sono costretti A continuare a lavorare A dei prezzi veramente da schifo Per continuare a permettere a noi In occidente Di comprare le cose a 2 euro in croce E ce n'è Ma compagnia bella Sono il top per questa cosa Quindi E poi ragazzi qui non voglio colpevolizzare Anche a me è capito Ogni tanto dico Sì no 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 Cioè non voglio neanche fare l'ipocrita E fare i discorsoni E poi magari Il punto non è Adesso sabotate tutte Sì no Non è sabotare tutte Il punto è Non date per scontato Che voi avete il diritto Di non far nulla Continuare a vivere Come state vivendo Non dar niente di utile A società Perché non è A prezzo zero È a prezzo di tutto Quello che esiste nel mondo Tranne L'occidente E Togliersi questo pensiero Di dosso È sbagliato Perché appunto Stiamo distruggendo tutto Per mantenere una vita Che alla fine Nemmeno ci rende felici Perché Ne trovassimo persone felici in giro Almeno dico Almeno un minimo Reva la candela Invece manco quello E quindi siamo tutti Arrabbiati Tutti triggerati Tutti insoddisfatti Per pure distruggere Sacrificare Tutto il resto Infatti è per quello Che anche in altri tipi di video In cui abbiamo parlato Anche con Marco e Marci Ho sempre detto Che il mio scopo Voglio che un domani Sia quello di riuscire A far trovare uno scopo Anche agli altri Cioè voglio comunque Lasciare qualcosa Non voglio che la mia esistenza Sia solo fine a se stessa Ma perché mi rendo conto Che la mia esistenza Comunque inquina Crea dei danni Vivo alle spalle Comunque di tutto il resto Che c'è Che non vedo Perché è un dato di fatto Quindi almeno spero E mi impegnerò Tantissimo Per far sì che succeda Che almeno riesco A lasciare qualcosa Qualcosa però di concreto Che ha senso E che possa essere di aiuto Per quelli che ci saranno Dopo di me Perché comunque Non mi sento Di avere il diritto Di sprecare quasi Tutto questo che ho Capito Perché se non lo utilizzi Lo sprechi Capito Poi voi direte Ok ma quindi È una vita completa Di sacrificio No Deve essere un bilanciamento Certo ma come tutto Deve essere bilanciato Personalmente Nel mio Ho deciso che Dovrà essere un 2080 Nel senso Il 20% Mi godo la vita E mi godo quello Che comunque Tutti gli antenati Sono arrivati a creare Con tutti i problemi Del mondo che abbiamo Perché è un mondo Appunto Con tutti i problemi Melecati prima Ma comunque è un mondo Oggettivamente migliore Del 1800 Non credo che nessuno Di voi mi potrebbe dire Voglio tornare a vivere Al 1800 La mia vita Perché oggettivamente Oggi Che morire Raffreddò Esatto Quindi Comunque un po' Dobbiamo goderci la vita Perché è giusto Perché comunque È importante E perché comunque Serve anche un po' A dare il senso Al sacrificio Di tutti quelli Che sono tutti prima di noi Però allo stesso tempo Dobbiamo anche essere oggettivi E dire Non può essere Questo il punto finale Perché se adesso Tutti ci mettiamo A goderci la vita E basta Questo è il punto finale Ma questo punto Sta distruggendo il mondo Letteralmente Non in modo soggettivo Letteralmente Lo sta distruggendo Quindi non può essere Il punto di arrivo Di conseguenza Va bene Mi diverto Mi godo le cose Ma allo stesso tempo Mi faccio il mazzo E qui allora Entriamo sul discorso Ma come faccio Se la società Non mi permette Di impegnarmi Non mi permette Di fare Perché comunque È anche vero Che oggi si vive In una società In cui rema Totalmente contro I giovani Quindi comunque ragazzi Avete anche la vostra parte Di ragione A sentirvi così Questo è innegabile Il primo punto è Smettere di pensare Che è opzionale Secondo me Mi viene in mente Quando noi abbiamo iniziato YouTube Che è stato tra l'altro L'unico momento In cui abbiamo avuto Diciamo una forza Così incredibile Oggi ce l'abbiamo Molto meno Rispetto a prima Perché poi imparerete Che crescendo Non solo migliori Ma peggiori pure Quindi alcune cose Siamo migliorati In altre siamo peggiorati E fa parte anche Questo della vita Però Dovete Smettere di pensare Che ci sia Una via di fuga Cioè che Potete semplicemente Se le cose Non vanno come volete voi Dire vabbè Ok Allora Dato che non mi vogliono Io mi metto a far altro Mi metto a Semplicemente Godermi quello che c'è E mi arrangio Ok Dovete pensare Che è una cosa Fondamentale Che in qualche modo Ce la fate Allora Quando vi arriva Una porta in faccia Non dite Ok Allora me ne vado Ma prendete E sfondate la porta Ed è l'unico modo Che c'è Ed è quello In cui oggi Manca la forza Secondo me Sì ma penso anche Che comunque Un po' Il cerchio vada distrutto Perché ad esempio Se la società Non dà le opportunità Ai giovani I giovani si scoraggiano Allora non le cercano Neanche le opportunità Esatto E quindi se non le cercano La politica Non cambierà mai Cioè io la vedo così Perché comunque La politica Segue quello Che la massa vuole E tra l'altro Se la generazione Dei nostri genitori E non bisogna Solo fare una colpa Perché come vedete Non è che stiamo facendo Molto meglio nel 2020 Non è riuscita A far nulla Per il cambiamento climatico Vuol dire che Le generazioni Che attualmente ci sono Non sono in grado Quindi vuol dire Che c'è bisogno Delle nuove generazioni Ma se noi Alla prima porta in faccia Ci arrendiamo E ci richiediamo Su noi stessi Continua questo cerchio Infinito Fino a quando Non distruggiamo tutto Per quello dicevo Che comunque Deve arrivare Il punto di rottura Del cerchio E penso che lo debbano Fare proprio i giovani Ma perché Io penso che comunque La forza dei giovani È anche stupido Non sfruttarla E infatti è stupida Anche la politica A non puntarci Perché io penso Che i giovani Siano la risorsa Più grande che abbiamo E continuiamo a far finta Che invece non è vero Che invece i giovani Non capiscono mai nulla Proprio perché sono giovani Quando invece hanno un'energia Che poi gli adulti E anche i molto adulti Non hanno più perché è normale Ma è che è l'energia che mi fa paura Esatto È l'energia che mi fa paura Quindi dico Ok certo vi è richiesto Ma è richiesto anche a noi Ad oggi un sacrificio Però penso che siamo proprio Noi giovani A dover spezzare questo cerchio L'altra cosa terribile È che le società Quando poi portano Nentre i giovani 9 su 10 Sfruttano i giovani Nel senso che Ti pago poco Ti faccio lavare tantissimo Ti faccio esaurire Ti faccio pensare Che quello è il lavoro E quindi certo Che poi ti scaturisce Il pensiero del Oh arrangiatevi tutti Io mi faccio i miei soldi Con un lavoro Che non mi fa schifo E poi li spendo Per viaggiare O per dedicarli ad altri hobby Ma è ovvio Che poi si crea quel pensiero Se in primis Anche le società Però a quel punto Che ti dico Rimaniamo tutti fermi Esatto Continuiamo a distruggere i giovani Continuiamo a dar potere A queste società Cioè qualcuno Il cerchio lo deve spezzare Questo è quello Che sto dicendo io E l'unico modo È forza di volontà Che non si ferma Di fronte ai primi ostacoli E poi un'altra cosa Che purtroppo sottovalutiamo Tutti un sacco È il fatto che Quando troviamo Un'ingiustizia Molte volte Invece che combatterla Io stesso questa cosa La faccio costantemente Invece che combatterla Io la giro Cioè dico Ok Guarda sto qua Sta facendo la cosa sbagliata Ma se mi metto contro di lui Avrò Questa 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 conseguenza Allora non lo faccio Piuttosto magari scappo Allora le aziende Continuano a fare delle cose Che sono illegali Ad esempio nel Come pagano i dipendenti Come gestiscono Dari degli stipendi da fame Dare degli stipendi da fame Non sono dignitosi E dovrebbe finire questa cosa Però con la paura Di essere licenziati La gente ragiona in due modi O me ne vado Perché non accetto più Quella situazione O dato che ho troppi pochi soldi Continuo ad accettarla E la catena rimane Perfetta E di conseguenza Continua lo stesso problema Quindi il punto è Lavorare Non è Una cosa negativa L'essere umano ha bisogno Di uno scopo Ha bisogno di sentirsi utile E ragionare solo su Bella vita Solo su Mi godo le cose Solo su Mi faccio viaggi Vi garantisco che non basta Potete vivere una vita intera Per scoprirlo E poi rimanere molto delusi A 60-70 anni O potete prima Accettare che il mondo È quello che è E che dovete trovare il modo Di forzare la mano Per poter far parte Di questo mondo Che vi rifiuta Ma che ha bisogno di voi Perché è vero che ci rifiuta Capito? Assolutamente sì E quindi un po' è questo Un po' un Non mollate Non pensate che la vita Sia solo divertimento Perché E anche divertimento E anche divertimento Ma non ci basta In quanto esseri umani E vi dico una frase Che non citerò giusta Perché la sbaglio sempre Però Gli stupidi Imparano delle esperienze Le persone intelligenti Dalla storia E cosa vuol dire In questo caso Non studiate storia Basta E minimizzarla E che voi potete capire Quelle cose Che sono un po' Universali Per l'essere umano Leggendo dei libri Ascoltando altre persone Capendo determinate cose Senza doverle vivere A vostra volta Quindi Non vi mette Magari per 30 anni A pensare solo A viaggiare Solo ad andare in discoteca Solo ad uscire Solo a far shopping Per poi scoprire Che tutto quello È stato inutile Ma nel mentre avete fatto Sterminare 150.000 Specie viventi Avete distrutto Paesi per il cambiamento Climatico E così via Leggete Informatevi E cercate di capire Che certe cose Sono universali E che non bastano E le gente Come le Kardashian Sono solo uno specchio Per le allodole Dove stanno bene Solo facendo finta Di star bene A discapito vostro Infatti si sente spesso Che poi questi personaggi Così enormi Soffrono di depressione Altri disperti Però sono le persone A cui purtroppo Diamo più visibilità E quindi Ci convinciamo Che poi quello È il massimo obiettivo Niente Rifletteteci Non è un Non vuole essere Né una predica Né una morale No è solo un Farvi entrare Questo pensiero in testa Poi dovete renderlo voi Quello che volete Esatto esatto Potete trasformarlo In quello che volete Però è giusto uno spunto A cui noi siamo arrivati Facendosi a tanti ragionamenti Ma anche leggendo tanto Informandoci tanto Quindi secondo me Era carino condividerlo Sì E poi mi dà proprio fastidio Che ci stiamo arrendendo Così tanto Mentre diamo per scontato Di poter distruggere tutto Solo perché noi Siamo tristi Ed è un atto di egoismo Veramente gigante Quindi niente Fateci sapere come pensate E riflettete un pochino Su questo argomento E sono curiosa di leggere i commenti Quindi vediamo E niente Ci fermiamo Ciao ciao